Presidente Marsilio, la regione Abruzzo si conferma regione all'avanguardia in tema di energie rinnovabili. Qui stiamo presentando un progetto di sostituzione integrale di impianti che produrrà un raddoppio della potenza prodotta dalle pale eoliche con un quarto delle pale attualmente presenti. Oggi ce ne sono oltre 60, al termine di questi lavori che termineranno alla fine del 2025 avremo solo 18 pale distribuite sul territorio di 3-4 comuni confinanti, su questi grinali. È un risultato eccezionale che incoraggia anche ad andare avanti e a guardare con una prospettiva positiva a questa tecnologia che a volte produce anche delle controindicazioni, dei conflitti. C'è sempre il delicato equilibrio ambientale, paesaggistico da tenere presente. Non sempre la realizzazione di questi impianti incontra il favore delle popolazioni e delle amministrazioni locali. Qui abbiamo trovato un esempio molto virtuoso di collaborazione molto costruttiva dall'impresa che realizza gli impianti, i territori che li ospitano alcuni ormai da molto molto tempo e che hanno tratto beneficio da questi insediamenti nel passato ed oggi guardano con ancora maggiore fiducia e prospettiva per il futuro proprio perché appunto avendo fatto questo impianto, questo lavoro di sostituzione noi realizziamo un incremento importante, un raddoppio della potenza di energia elettrica prodotta che ha un equivalente di quasi 50.000 utenze servite con un quarto circa degli impianti esistenti. C'è anche un netto miglioramento dal punto di vista paesaggistico ambientale, restituzione di parti di territorio alla cittadinanza e ai comuni e un passo in avanti significativo verso il raggiungimento degli obiettivi che ci vengono dati di produzione di energia da fonti rinnovabili che sono molto sfidanti e per i quali è importante individuare le aree idonee per poter realizzare gli impianti che servono. Presidente, le aree interni, i piccoli comuni tornano ad essere strategici in funzione energetica. Hanno bisogno probabilmente di qualche compensazione in più da parte delle istituzioni? Sì, questo è un altro aspetto importante, che poi questo tipo di energia si produce principalmente e si può produrre principalmente in quelle aree che oggi da ormai da molto tempo sono soggette a forte spopolamento, a depoporamento economico. Quindi dare una vocazione anche economica, produttiva a queste zone e farlo nel segno della sostenibilità ambientale, perché poi alla fine realizzare impianti di energie rinnovabili questo significa in un'epoca dove questo tema è molto centrale ed è molto ricercato può rappresentare anche un asset importante, una vocazione per il territorio. È giusto che un territorio che poi per certi versi paga anche il prezzo della presenza di determinati impianti ci sia una giusta compensazione, un giusto equilibrio tra ciò che offrono e ciò che possono ricevere. Intanto, l'abbiamo sentito dalla voce dei sindaci direttamente interessati, loro accolgono con favore, avendo avuto già questa esperienza in passato, il fatto che nell'anno e mezzo circa di lavori qui ci saranno operai, maestranze che soggiorneranno, mangeranno, vivranno sul territorio, insomma si ricrea anche una vitalità e un certo movimento economico sul territorio e poi appunto nel perdurare del tempo rimangono le royalties, le compensazioni anche economiche oltre che ambientali, magari lavori pubblici, spesso le amministrazioni comunali scambiano appunto la disponibilità e le autorizzazioni a un intervento per vedersi realizzate quelle opere pubbliche con le proprie poche risorse, stiamo parlando in alcuni casi di comuni che hanno 100 o forse anche meno di 100 abitanti e quindi le risorse proprie sono davvero minimali. Queste opportunità, queste occasioni possono fare in modo che anche in questi luoghi si possano realizzare quegli interventi che altrimenti sarebbe difficile garantire. È stato citato il detreto a Reidone, c'è già stato il confronto dei sindaci, a che punto è l'ITER? L'ITER è avviato la Regione per l'istruttore in mano al consigliere delegato Campitelli che sta procedendo appunto all'istruttore di tutto questo ITER. Dobbiamo terminare entro il 31 dicembre, entro la fine dell'anno. Io confido nel fatto che questo percorso si completerà e che la Regione potrà produrre, come la legge prescrive, un piano delle aree idonee che consenta poi di avere anche certezza su dove gli impianti possono essere realizzati, realizzati magari con la corsia preferenziale quando sono indicati come aree idonee e avere anche un quadro più chiaro per le amministrazioni dei territori evitando qualche conflittualità di troppo e soprattutto per le aziende avere un'individuazione anche cartografica seria di dove gli impianti possono essere realizzati senza rischiare poi di doversi trovare con l'intoppo di una conflittualità nei confronti delle amministrazioni locali. Credo che sia anche una cosa importante per garantire che gli investimenti possano essere fatti con programmazione e con fiducia per il futuro.